Sette punti in sette gare per la Fiorentina, uno in meno per l'Udinese. Sfida tra squadre a centro classifica quella che andrà in cena domenica al Franchi all'ora di pranzo. Arbitrerà la contesa ma assimiliano i rati della sezione di Pistoia. Il fischietto toscano sarà assistito dai collaboratori Dobost e Giallatini. Quarto uomo Sacchi. Var Gavillucci, a Var Crispo. Le ultime sulla Fiorentina. Formazione quasi al completo per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno solo di Saponara e Gildiaz. In difesa sulla corsia destra ci sarà Laurini, con Bruno Gaspar in panchina. L'unico ballottaggio riguarda la linea dei tre alle spalle di Simeone. Tereau e Chiesa sono certi di una maglia dall'inizio, mentre Benassi è in ballottaggio con Eiseric. Le ultime sull'Udinese, senza Berami, con Danilo ancora non al meglio e Widmer recuperato. Del Neri scenderà in campo al Franchi con pochi dubbi di formazione. Quello principale riguarda il centro campo, con Alfred Sone e Baracche si contenderanno una casacca dal primo al fianco di Fofana e Giancto. In attacco a guidare la compagine friuliana ci sarà Maxi Lopez. De Paul e Lasagna i calciatori a suo supporto.